Venerdì, ore 21, stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, l'anticipo con Perugia. Snodo non c'è dubbio fondamentale, tassativamente vietato sbagliare. Umbri senza mezze misure, 13 vittorie, 12 KO equamente distribuiti, 6 alcuri altrettanti lontano dal pubblico amico, appena 5 pareggi. Negli scontri diretti 8 sconfitte, di cui 4 in casa nel girone di ritorno contro Brescia, Palermo, Verona e Benevento. 4 pareggi ed una sola vittoria, 2-1 lo scorso 2 dicembre, proprio contro i Biancazzurri. Squadra giovane, mentalità propositiva all'11 di Alessandro Onesta, piace cominciare il gioco dal basso, tatticamente però non particolarmente organizzata, specie in fase di non possesso. È una scelta che spiega e certifica in modo piuttosto eloquente le tante vittorie e le altrettante sconfitte. Il Pescara si gioca tanto, ma anche il Perugia, che occupa l'ottavo posto, ultimo utile in chiave play-off, e accusa 4 punti di ritardo dalla formazione di Pillon. A sorpresa conferenza stampa del presidente Massimiliano Santopadre, che parla a cuore aperto, caricando un ambiente, a suo dire, rassegnato. Mai rassegnarsi, 6 partite, 18 punti, è un nuovo campionato. La squadra venerdì a Pescara deve andare con la bava alla bocca, perché noi possiamo andare ancora in Serie A. La vita di obbligo ci insegna che il bicchiere deve essere sempre mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Quando è mezzo vuoto è perché sei un mediocre, sei infallito, sei imperdente. perché anche se è pieno d'aranciata invece che di champagne, è sempre un bicchiere mezzo pieno. A Pescara, forti, uniti, con la squadra, aiutiamoli. Da qui a venerdì io sarò un tutt'uno di trasmettere questa cosa, perché i ragazzi sono come le spugne, assorbono. Credevoci, forza, svegliamosi. La città, lo chiede alla città, rialziamoci, rimettiamoci in piedi. Il torpore, togliamocelo da dosso. Se il Perugia va in Serie A, fa parlare tutta Europa, non solo l'Italia, ricordatevelo, perché questa non è una città normale. Sarà 4-3-1-2 in difesa, previsto il rientro di Rossi. Centrale L-Yamik con Ghiomber, Mazzocchi a sinistra, Falserano o Kisley, Carraro e Dragomir. Centrocampo Verre tra le linee, alle spalle di Sadik, di uno tra Vido e Han. Non al meglio, Melchiorri potrebbe partire dalla panchina. Nel Pescara si nutre ottimismo sul recupero di Brugman. Ci sarà sicuramente Memusciai, Cresce e Canutè indisponibili, Campagnaro, Bettella e Del Sole.